Sere di Girone I, nona giornata di campionato giocata ieri, risultati a sorpresa, inaspettato ancora una vittoria per il Palermo 9 su 9, un Palermo che è sempre più capolista del Girone, una partita importante quella del Palermo dove la formazione di Pergolizzi mantiene la classifica con 27 punti, andiamo a vedere quello che è successo in questo nona giornata Biancavilla Giuliana 2 a 1, Cittanovese Troina 0 a 1, Conigliano Calcio Savoia 0 a 0, FC Messina Cireale 2 a 2, Riccata e ACR Messina 0 a 0, Marina di Ragusa Sant'Omaso 2 a 2, Marsala Farmese 2 a 0, Nola Palermo 0 a 1, Roccella Carsovillare 1 a 1. Andiamo alla classifica per vedere quello che è successo anche in classifica, Palermo sempre più capolista con 27 punti, a seguire c'è la sorpresa attuale del Biancavilla con 19, Troina 18, Cireale 17, Savoia 16, Riccata 15, ACR 14, Giuliano 13, Nola 12, FC Messina e Marsala 11, Cittanovese 10, Carsovillare 9, San Tommaso e Conigliano 8, Marina di Ragusa e Roccella 6, Chiute il Fananino di Cota e la Farmese, una classifica importante, in Marsala la vittoria di ieri nello scontro diretto proprio contro la Farmese, uscita fuori dalla zona allontanandosi dal Carsovillare, San Tommaso, andiamo a vedere il prossimo turno di campionato CR Messina, FC Messina, qui c'è il derby messinese, Carsovillare, Marina di Ragusa, Cireale Cittanovese, Giuliano Licata, Palermo Conigliano, Parmese Nola, San Tommaso Massala, Savoia, Biancavilla, Troina, Roccella, scontro diretto dunque per il San Tommaso e Marsala, il Marsala dopo la vittoria con la Farmese in casa dovrà cercare di non perdere lo scontro diretto di domenica prossima proprio in terra Campania contro il San Tommaso, mentre la capolista Palermo Scecca ospiterà in casa il Conigliano in crisi societaria, mentre le Siciliane il derby tra la CRFC Messina, il derby tanto atteso messinese, mentre il Licata di Campanella avanderà fa visita al Giuliano, il Troina ospiterà in casa il Rocella, si riprovate una giornata di campionato davvero molto interessante anche la prossima giornata di campionato.